Gli indefiniti usati come aggettivi. Aggettivi e pronomi e solo pronomi. Indefiniti usati solo come aggettivo. Prenderemo come esempio per spiegarlo ogni, qualche, qualsiasi, qualunque. Ogni è invariabile e si usa sempre con un nome al singolare. Significa tutti e tutte. Precede il nome. Per esempio, domani oggi giocatore, tutti i giocatori, deve portare il suo computer. Qualche è invariabile e si usa sempre con un nome al singolare. Significa alcuni e sempre precede il nome. Per esempio, rimarremo a Livorno qualche giorno. Alcuni giorni, qualsiasi e qualunque, sono sinonimi. Significano tutto, tutti. Non importa chi, quale. Sono invariabili e possono precedere o seguire il nome. Per esempio, qualunque, qualsiasi, città, tu visiti in Spagna, trovi sempre qualche celebrazione divertente. Indefiniti usati come aggettivi e pronomi. Prenderemo come esempio per spiegarlo. Alcuni e alcune. Ciascuno e nessuno. Alcuni e alcune. È variabile. Nel significato di qualche si usa il plurale. Precede il nome quando è aggettivo. Per esempio, ieri sera ho rivisto alcuni miei compagni di calcio. Qualche. Questo fa l'aggettivo. E d'altro caso, alcuni sono imbanchati moltissimo. Pronome. Ciascuno. È usato solo al singolare. È variabile solo nel genere. Quando è aggettivo significa ogni e precede il nome. Esempio. Ciascuno studente, ciascuna maestra. Quando è pronome significa ognuno, ogni persona o cosa. Per esempio, darò un compito a ciascuno. Nessuno. È usato solo al singolare. È variabile solo nel genere. Esempio. Nessun essere umano ha mai messo piede su Marte. Adgettivo. Se segue il verbo vuole la negazione non. Esempio. Ieri sono stato in casa tutto il giorno e non ho visto nessuno. Pronome. Indefiniti e usati solo come pronomi. Prenderemo come esempio per spiegarlo. Chiunque. Niente nulla. Ognuno qualcuno. Chiunque. È invariabile e si usa solo al singolare. Significa qualunque persona. Esempio. Chiunque può collegare il proprio computer a internet. Niente nulla. Sono sinonimi. Significa non nessuna cosa. E sono invariabili. Per esempio. Niente può fare sport con questo freddo. Ognuno. È usato solo al singolare ed è variabile nel genere. Significa ogni persona. È sinonimo di ciascuno. Per esempio. Ognuno deve fare una parte del lavoro. Qualcuno qualcuna. È variabile ed è usato solo al singolare. Significa qualche persona o anche qualche cosa. Per esempio. Qualcuna macchina ti piace o preferisce una moto. Qualcuno. 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 Grazie.